Ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, ho visto adesso un bellissimo filmato su Stefan Radu, che era un tuo compagno. Quindi ti volevo chiedere un pensiero sul suo percorso, sul suo record. E poi, vabbè, avevo solo un jolly, ma insomma è stata una sosta in cui occupata e dominata dai processi sportivi. Però si è parlato un pochino anche del tuo futuro, il contratto ancora in scadenza. Ci puoi dire com'è la situazione? Grazie. Ma per quanto riguarda Radu, sono contento per lui, se lo merita, che abbia raggiunto questo importantissimo record, perché è un ragazzo che in tutti questi anni prima è stato mio compagno, ora sono il suo allenatore, se l'è meritato sul campo per la dedizione e l'impegno che mette nella propria professione. E quindi sono contento che abbia abbattuto questo record importantissimo. Per quanto riguarda la mia posizione, insomma, lo sapete, col Presidente ci vedremo tra poco. Anche ieri in un momento molto doloroso ci siamo visti, eravamo uniti nel dolore insieme alla famiglia di Daniel, perché ieri è stata una giornata molto triste e dolorosa per il mondo Lazio, perché la cosa che è accaduta mi ha fatto ritornare indietro nove anni nel tempo all'altra tragedia di Mirko Fersini. Sono cose che purtroppo non dovrebbero accadere per quanto riguarda il mio futuro. Penso che non ci siano problemi col Presidente, ci troveremo con molta tranquillità e vedremo il da farsi. Sì, salve mister. Io le volevo chiedere di queste ultime 10-11 partite se effettivamente ha visto la sua squadra in condizione di lottare con le squadre che le sono davanti e se è una Lazio che in queste ultime 10 partite dovrà fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto fino adesso. Ma senz'altro abbiamo lasciato con due vittorie importanti, non semplici, soprattutto l'ultima Udine. Venivamo dalla partita di Monaco, quindi su una squadra che nel giorno di ritorno penso che come media punti fosse quinta in classifica. Quindi abbiamo fatto una gara importante che abbiamo bisogno domani di dar seguito con lo Spezzi. Adesso dovremo fare in modo di riattaccare la cosiddetta Spina nel migliore dei modi, sia chi è rimasto qua, chi è tornato dalla Nazionale, che andare in Nazionale è motivo di grande orgoglio per tutti. Quindi sia chi è rimasto che chi è andato con la Nazionale spero di ritrovarli come li avevo lasciati. Ciao Simone, volevo sapere, ma Luiz Alberto ti mancherà solo per questa partita? Pensi di recuperarlo per il Verona? E poi volevo sapere un po' le condizioni psicofisiche di Ciro Immobile. Pensi di utilizzarlo dall'inizio domani? Oppure magari ti è tornato stanco? Possiamo pensare a un utilizzo a gara in corso? Grazie. Per quanto riguarda Luiz Alberto ha avuto una distorsione importante e quindi sicuramente non lo avremo. Ci sono speranze, dovrà lavorare di giorno in giorno insieme allo staff. Ha un versamento importante che è già venuto fuori sulla caviglia, un pochettino gonfia, quindi ha avuto un trauma importante. Per quanto riguarda Ciro l'ho visto ieri dieci minuti, ha giocato 90 minuti su un campo sintetico, ci parlerò, valuterò le sue condizioni. Adesso mi sembra un pochettino prematuro per dire se giocherà o meno dall'inizio. Cercherò di valutarlo perché ha fatto una partita dispendiosa, però ieri mi sembrava in discrete condizioni. Ciao Simone, buon pomeriggio. Senti, dieci giornate dalla fine. Che idea ti sei fatto di questa corsa per la Champions e poi soprattutto se noterà Lazio, quante possibilità ha ad oggi di ricentrare la qualificazione? Diciamo che siamo in quel gruppo lì, siamo con quelle cinque che tutti sappiamo e anche quest'anno noi l'Atalanta abbiamo fatto qualcosa di importante. L'Atalanta in classifica è messa meglio di noi, però mancano 11 partite alla fine, ci sono 33 punti a disposizione, è lunga. Sappiamo che abbiamo, come sempre sappiamo, delle squadre molto molto attrezzate, ma noi cercheremo di fare del nostro massimo, che vogliamo rimanere nell'Europa che conta. Ciao Simone, buon pomeriggio anche da parte mia. Senti, il 3 aprile del 2016 con un comunicato la società sollevava dall'incarico Pioli e ti consegnava la prima squadra. Credi di essere di fronte alla fine di un ciclo dopo cinque anni e poi volevo chiederti se invece guardi avanti per i prossimi cinque, cosa ti auguri di vedere? Ma io penso che io sono contento di quello che ho fatto in questi anni e spero di riandare avanti tanti altri anni, perché il Presidente sa che la Lazio per me è sempre al primo posto, poi è normale come in tutte le famiglie, bisognerà sedersi, però il Presidente l'ho visto, secondo me anche per il Presidente sono la sua prima scelta, lui sa che la Lazio per me è la mia prima scelta, quindi penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi, senza se e senza ma. Salve mister, le voglio fare una domanda su Pereira, visto l'infortunio di Luis Alberto, se al di là di quanto è riuscito a trovare spazio fino a questo momento, comunque può diventare una mezzala per questo finale di campionato, se in quel ruolo è pronto per il rush finale di campionato e poi volevo un suo giudizio sul Sassuolo, sul fatto che De Zerbi non impiegherà alcuni suoi calciatori importanti per non rischiare nonostante questi siano risultati negativi al tampone. Grazie. Ma per quanto riguarda il Sassuolo non mi piace giudichiare quello che fanno gli altri, io devo cercare di guardare in casa mia e farlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda Pereira è un ragazzo che lavora molto molto bene quotidianamente, e quindi domani può essere un'opzione importante per noi. Sono, come ho detto precedentemente, sono molto contento per come lavora, per come si è inserito. Lui chiaramente può fare la mezzala, può fare la seconda punta, è normale che le nostre due mezzale solitamente sono Luis Alberto e Milinkovic ed è per questo che gli attaccanti sapete benissimo chi sono, quindi ho cercato di inserirlo nel momento giusto, probabilmente per quello che fa quotidianamente avrebbe meritato più spazio.